Ok, allora adesso prendo la lavagna e facciamoci venire un po' di idee concettuali, semplici su cosa fare con un suono e un frammento elettroacustico. Allora, qual è la prima idea possibile? Ma proprio quella più banale, non andate a cercare molto lontano. L'idea più banale è che, boh, alterno uno e l'altro. Allora, diciamo che qua mettiamo le altezze, non è nulla di intellettualmente... Allora, qui c'è il suono, facciamo che c'è il suono reale, no? E poi c'è il suono, allora facciamo che questo è il suono reale e questo è il suono elettroacustico. Ah, questo è così e questo è così. Questo è così e questo è così. No? Questo è così e questo è così. Allora, ok, questo è un processo molto semplice, quindi sostanzialmente se io lo dovessi scrivere, adesso non mi fate scrivere tutto il pentagramma, ma avete un suono qua, no? Poi un suono qua, poi un suono qua. Questa è la parte di... qui c'avete una pausa, facciamo. No? E questo si alterna con questo. Boh, benissimo. Una roba del genere è molto semplice e voi potete pensare, beh, vabbè, che pizza, eh, ci avete ragione, è una sacrosanta pizza. Però intanto una roba del genere la sapete fare? Cioè sarà pure una pizza, però è una cosa relativamente semplice da fare, no? Queste si chiudono così, eccetera, eccetera. Allora, poi, dopo di che, allora avete il problema che è una pizza. Benissimo. Eh, quindi per esempio si potrebbe fare, si potrebbe fare una seconda evoluzione di questa cosa, di dire, ok, allora adesso però facciamo che il... facciamo un'altra cosa, in cui il suono reale, no? Che è questo, sempre uguale, però questo, per esempio, c'è un'alternanza prima così, poi man mano questa alternanza si va allargando, no? E alla fine il suono elettroacustico è continuo. Sempre una pizza, ma meno di prima, ok? Mentre questo è sempre fisso, quell'altro... cioè, queste sono idee stupidissime, non dico che... ma appunto, eh, una cosa del genere. Allora, questo è lo strumento e questo è la parte elettroacustica. Già qui, per esempio, ci sono un sacco di cose da decidere. Come fate? Lo fate suonare questo in maniera che questo è un frammento, questo è un altro frammento, oppure questo è tutto un frammento e sta al suono, sta allo strumentista a aggiustarsi con quella cosa là. Allora, per esempio, qua forse vale la pena di suonarlo, nel senso che si alterna in maniera da lasciare svincolato lo strumentista, seguire lui piuttosto che lui segua il computer. Ma qui il problema è diverso, perché qui in realtà la parte elettroacustica si sovrappone. Allora, per esempio, questo lo sapete fare? Qui bisogna fare in modo che appunto questi punti qua si accorcino tra di loro rispetto a un incedere, eccetera, eccetera. quindi bisogna farsi un po' di conti, è tutto molto semplice, però bisogna farlo, ok? Ora, qua per il momento non abbiamo toccato niente di tanti parametri, per esempio il ritmo, la scansione ritmica. Queste sono scansioni ritmiche molto semplici, però terza evoluzione. dico, va bene, questa cosa qua io la accelero. Per esempio, lo strumento fa questo, poi fa questo, e così via. E l'elettronica che cosa fa? L'elettronica potrebbe fare il contrario. Parte da una cosa che fa una cosa molto breve. No, questo è già un'idea più complicata di quello che avremmo, no? L'elettronica può fare l'inversione di questa cosa. Pensate, questi sono tutti meccanismi molto molto semplici, che però bisogna prendere e mettere in atto, no? E questo è lo strumento, ok? Allora, scegliamo, scegliamo una cosa da fare, che vediamo, perché poi il problema qui è imparare a concettualizzare questa cosa. Cioè, come si scrive in Python una roba del genere, no? E come si scrive per fare in modo che, per esempio, Python scrive anche, magari, in Lilipond questa parte qua. Potremmo potremmo voler fare anche quello, no? Cioè, che ti scrive sia la partitura in Lilipond che la cosa in Csound per fare... Per la funzione non dovrebbe essere più difficile, è interessante, è interessantissimo la cosa per Lilipond. Cioè, come... Beh, allora, semplicemente, il processo che fa questa cosa qua, in realtà è fatto di due sottoprocessi, no? E l'output, l'output di questo è una partitura di Csound. È un file.sco. no? E l'output di questo potrebbe benissimo essere una partitura... un file .ly, no? Sono entrambi... questo è un file ASCII. Cioè, caratteri ASCII puri. E quest'altro, indovinate che cos'è? Non è un file ASCII pure questo. Per cui, chi ci vieta di fare una cosa del genere? No? Allora, per esempio, sempre per ragionare in termini di idee, questa cosa qua, la cosa sotto, che è la cosa dello strumento, può essere scritta in due modi. Allora, adesso mi costringete a fare un pentagramma e lo devo fare. Tra l'altro, ne dovrò fare anche più di uno, quindi forse... ma... non so. Vorrei usare questa cosa dei layer, però non capisco bene. Allora... aggiungiamo un layer... aggiungiamo un layer... e questo lo chiamiamo... e... staff... e qui ci mettiamo... e poi capisco se se fosse poco piastro layer, per esempio. Allora... scriviamo questa parte qua. Cioè, intanto, non scriviamola con Lillipon, ma scriviamocela come... come potremmo... quali sono i modi in cui potremmo scriverla. Allora... potremmo scriverla, diciamo, con una notazione più... diciamo, musicalmente più... più comprensibile dai musicisti. Potremmo scrivere che questa comincia con un certo tempo, diciamo... 46 di metronomo... e poi... questa è... accelerando... sempre... fino a... per esempio... fino a... 136. Ok? Allora... questo... sostanzialmente qua... allora basta scrivere... ok... facciamo che siano tutti si bemolli... questo... lo si scrive così, no? e poi un altro si bemolle qua... però... sono tutti uguali, no? è solo il tempo metronomico che sta accelerando... ok... questa è... un... un... un accelerando continuo... no? che dal punto... non si vede dal punto di vista della partitura... ok? ecco... adesso ho fatto una cazzata che ho scritto... va bene... perché adesso se volessi copiare questo... questo me lo copio... e ce n'ho un altro... e però sono doppi... e non lo posso spostare questo... e quindi... che ce faccio questa roba... e... vabbè... non è... non è il tempo... forse con questo lo posso spostare... no... con questo sposto tutto... e non sposto... allora se sposto questo... e però rimetto questo... e non si è spostato tutto... quindi niente... e... boh... non so... non so come... allora questo... mi pare che... make an exact clone of the current layer... ma poi dopo... che ce faccio... vabbè... non importa... eh... lo... lo... lo riscrivo... lo facciamo prima... eh... no... in questo momento non posso scrivere... perché... ah... perché è nascosto il... ok... invece... invece posso scrivere in un altro modo... posso scrivere un accelerando di tipo metrico... no... adesso lo faccio semplicemente... qua dopo lo... lo possiamo fare in realtà come ci pare... e... 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 questa è una cosa diversa... è più difficile da suonare... bisogna saperlo... ma... insomma... posso fare una cosa di questo tipo... questa non è... eh... non è più un quarto... ma... eh... una pausa da un ottavo puntato... poi questa... adesso lo faccio semplice... eh... eh... è una... diventa... una croma... questa diventa... una croma... poi questa... facciamo che... una... discroma... qua... pu... qua... potremmo fare anche figure più... cioè... per esempio... questa è una croma di terzina... con... una... terzina... qua... no... in maniera... da... farlo... più... progressivo, poi qua c'è una biscroma e così via, e qua c'è una biscroma e bla bla bla. Cioè potremmo farlo più misurato. E via discorrendo. Vedete che a partire da un problema apparentemente semplice si creano tanti problemi. Cioè è per questo che vi dico, quando mi dite non ho proprio idea di cosa fare, mi viene strano a me sta cosa, perché mi viene da dire, vabbè, ma che meccanismo abbiamo per farci venire le idee? Bisogna ragionare e vi propongo appunto di ragionare in maniera inizialmente semplice, perché altrimenti non fate niente e non si muove niente. Allora, un attimo che salvo questa cosa, così ce l'avrete poi a futura memoria. Ok. Quindi. Per esempio, allora, sembravate interessati a... Cioè, è una cosa che vi può interessare l'idea che il processo anche magari prova, perché magari non ci si riesce, prova a scrivere la partitura per lo strumento in maniera, diciamo, come si dice, programmatica, cioè, diciamo, di fare qualcosa e lui lo fa. Può essere una cosa interessante, perché questa è un'idea come un'altra, eh, non è che ce ne sono... Cioè, non è che c'ho la... E, incidentalmente, adesso, quando, nel momento in cui ve lo dico, io non so come farlo. Lo immaginiamo insieme, perché quella, la cosa che dovete, che vi devo insegnare è proprio questo, dire, avere un problema, senza avere una soluzione in tasca, che uno dice, vabbè, ecco, allora questo si fa così, e andiamo avanti. Pronto? Dite qualcosa, qualcuno dica qualcosa. Federico, che ne pensi delle cose che abbiamo detto? Assolutamente, poi, in cui credere, sicuramente, vengono... Ma, io ho l'impressione che voi abbiate la voglia o l'ambizione o la... o non so, di fare qualcosa di estremamente significativo. Allora, per fare le cose estremamente significative, bisogna prima buttare via, nel senso di fare... Non so, ma, faccio una questione, poi, personalmente, ambizioni e grandi, non mi piace, no. Voglio dire. Sì, ma, allora, bisogna avere anche il coraggio di avere delle idee molto, molto semplici, che dici, vabbè, questa probabilmente è una roba che la farò, poi la butterò via, però, intanto, la faccio e vedo come funziona, ok? Se avete... se vi do un problema, se vi do un problema compositivo con... che ha due elementi, beh, l'idea più semplice, dice, vabbè, faccio prima uno, poi l'altro, prima uno, poi l'altro, faccio la sirena dell'ambulanza, cioè, faccio qualsiasi cosa, ma, in qualche... qualcosa faccio. Poi, dopo, è chiaro che, man mano che lo faccio, dice, vabbè, è mo' che ho fatto prima uno e poi l'altro, che ho fatto, cioè, non... questa cosa non va da nessuna parte. Quindi, devo... devo modificare questa cosa, devo... devo... devo fargli fare qualcosa. Allora, che cosa potrei fare? Potrei fare un accelerando e un decelerando... Potrei fare, intanto, tutto un accelerando, poi un accelerando che va a contromano con un decelerando della parte elettroacustica, poi... cioè, a quel punto cominciano a avvenire tante, tante idee su cosa da fare, e non tutte saranno brillanti, però, intanto, uno fa, capite? Se uno sta a aspettare lì che fiocchino le idee, le idee non fioccano mai, perché le idee arrivano sempre da una... da una riflessione. Poi, dopo, le riflessioni vedrete che nel tempo diventeranno più complicate, diventerà... ma che cos'è che vale la pena oggi, in questo momento preciso, dentro, in mezzo al Covid, in mezzo all'umanità che esplode, in mezzo a questo, in mezzo a quel lato, cos'è che... in mezzo al rumore, qui siamo invasi da rumore di fondo informazionale... allora, poi lì uno... la sostanza delle idee musicali acquisisce tutto un'altra... eh... spessore, quindi ci sono delle cose che... uno si sente che vanno dette, no? E le altre che... adesso siamo molto, molto prima, intanto bisogna essere capace... capaci di... di esprimersi, di... di... emettere qualche vagito, punto. no? Già, per esempio, l'idea che aveva avuto Kevin l'altra volta, appunto, io voglio fare una cosa che casca per terra e rimbalza, cioè il suono... il suono che mi interessa è questo e... vedete che... cioè, per farlo per davvero, bisogna mettersi lì e... 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 e pensarci un attimo e naturalmente non viene come avevamo... eh... come avevamo preventivato, quindi bisogna fare delle medifiche, può darsi che l'idea pure cambi, perché... e... 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 e quella pure era un'idea molto... cioè, a me è piaciuta perché è un'idea semplice che, insomma, si poteva... uno si poteva metterla in due ore e implementarla, no? e... e... però, appunto, bisogna... eh... bisogna in qualche modo... eh... allora, cosa vogliamo fare? vogliamo vedere, per esempio, come si fa a scrivere in Lillipond da Python? cioè, è una cosa che mi interessa... eh... sarebbe una cosa molto interessante... però... la domanda... è... se io... ho... una partitura... e voglio che quella partitura venga scritta automaticamente... cioè... una partitura fisica... e voglio che quella partitura venga scritta automaticamente in Lillipond... perché? eh... perché... cioè... dovrei in un programma e scrivere tutte... trascrivere tutte le notti della partitura di un programma... a quel punto faccio prima... a scriverlo in Lillipond... ma certo... il problema... ma certo... infatti il problema... è che... non ragioni in questo modo... il ragionamento è... per esempio se... eh... se è il processo che genera, per esempio, le note... no? eh... oppure... oppure... oppure se... eh... cioè... se a te interessa... per esempio... a te interessa generare un milione di note casuali... ok? certo... le potresti scrivere tu... però intanto... la tua casualità... ci scommetterei che è un po' meno casuale... di... di Lillipond... eh... cioè di Python... eh... Python... se tu gli dici di fare casuale... lui ti fa... il rumore bianco piatto... quindi ti fa proprio... la casualità più casuale che si può avere con un computer... e che non è quella perfetta... ma... insomma... è già molto più perfetta della nostra... cioè... quello che voglio dire è che... se... eh... se... eh... se... un... cioè... se uso il computer per scrivere la partitura di Lillipond... vuol dire che io sto usando... eh... un... come posso dire... sto usando... voglio... voglio... voglio fare una generazione algoritmica delle note... se le devo pensare una per una... eh... allora tanto vale... c'hai ragione tu... tanto vale scriversela in Lillipond... direttamente... no? pronto? Leo? Si sei? Si... 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 no... ma... questa è una domanda retorica... oh... ok... allora... si... ma... dal punto di vista... dell'ultimo esercizio... scrivere... le note... con valore... cioè... quello che voglio dire a me... per... come gli utili di... di... di queste cose di Lillipond... sarebbe... prendere e usare per fare la... la partitura della parte... eh... appunto... eh... strumentale... cioè... che cosa... per fare la partitura della parte... eh... scritta... a mano... quello che penso... o... che cosa... beh... allora... per esempio... eh... la... la partitura... eh... la partitura... eh... la partitura dell'elettronica... potremmo trovare... altro software... che ce la fa... grafica... a macchina... non sarebbe bello? vi piacerebbe? avere un software che... si... allora... come deve essere fatto per esempio questo software? deve essere un software che... in qualche modo accetta... eh... accetta un input... di testo... come... come ci sa... grafico? quello che vorrebbe... potremmo utilizzare... cioè... implementare le Tartle... che... ovviamente... è la... cosa... che... è veramente più facile... ma che cos'è Tartle? quello di Python... che... ti permette di... realizzare... cose... grafica... che... se... eh... questo può essere una cosa... è una libreria di Python? si... è una libreria di Python... che ti permette l'implementazione grafica del programma... eh... si chiama Tartle... come è Tartle? si... si... Tartle Graphics... e come funziona Tartle? eh... è veramente una... ah... è una specie di logo... si... si... ma... è abbastanza giornata... perché c'è una... come... che ci sta molto... molto... un po' molto... dietro... un po' di dopo... ho provato a farci... che ci sta... un po' di... incrementare un po' di cose per questa idea... ma... c'è un po' che ci sta veramente... quando si sveglia... alla notte... quando vado a dormire... e... e... vabbè... questo mi preoccupa... perché vuol dire che... l'interfaccia cambia rapidamente... e... 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 eh... però possiamo... eh... però possiamo... anche tanto... perché... per parte delle cose che implementano... sono robe... talmente... che... aggiungono... continuamente... però... non è roba di dire... ecco appunto... questo è tipo C-Sound... allora... allora... Tartor... allora... Tartor c'ha la posizione... è un ok... e... 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 come si fa... a... a... disegnare... questo è... per... lo spostamento... si... è anche... fin troppo... complicato per me... e... evidio chiamare... che... e... e... ok... allora facciamo una cosa... eh... dato che... mi avete lasciato senza niente da fare... allora... eh... eh... scriviamo... scriviamo... una cosa che... Scrive sia la partitura in C-sound che la grafica che serve per la... Proviamo a farla in Tartal. Dato che tu lo sai fare, lo facciamo. Puoi condividere il tuo schermo? Non ho programmi per scrivere. Che te posso. Che te posso, disgraziato. Come si fa? Facciamo lezione di pianoporte? Eh, non c'è il pianoporte purtroppo. Allora che fanno? Disegniamo una tastiera sul tavolo? Che facciamo? Chi vuole farlo? Però ci facciamo guidare da... Allora, io intanto me la importo. A G3 posso scaricarlo? No, lo facciamo fare a qualche di un altro. Dato che tu non sei pronto e non sei preparato, lo facciamo fare a qualche di un altro. Chi lo vuole fare? Mauro, Leonardo, Mauro, Federico, Kevin? Abbiamo tartassato, abbiamo torchiato l'altra volta. Adesso facciamo qualcun altro. Oggi è una situazione tipica, quindi non conviene che non sia muta. Ma perché? Non c'è niente per scrivere. Ma qui non sono più adesso messo male. Un po' con la connessione. Mamma mia, ragazzi. Ma che c'è? Oggi è un'altra, oggi è un'altra, oggi è un'altra. Oggi sono venuto a fare la sezione di pianoporte con un tasto solo, perché tutto il pianoporte è andato giù per le scale e mi è rimasto solo un tasto in mano. Federico, tu hai Python installato, un editor di testo o qualcosa? Sì, però... Sì, però? No, però, no. Non te la senti, però, sinceramente. Non te la senti? No. E che... Perché non te la senti? Non te la senti. Eh, ma, ragazzi, attenzione, voi osservate, osservate, poi non fate niente, eh. Guardate che è molto... Cioè... No, no, vabbè osservare storica anche io. Parallelamente. Esatto. Allora, l'unico che mi rimane, che è l'unica persona seria, è Leonardo qua. Come avevo detto all'inizio, l'unica persona seria è Leonardo. Leonardo puoi fare? Eh, sì, 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 sto anche compriendo... Ci sei installato Tartle? Ah, l'unico installato da zero, non si scarica come importe, no, eh. Eh, la possibilità è che io sto scaricando una... A me ha fallito l'install, eh, di Tartle, e già questo andiamo male. Cioè, ho fatto pip3, install Tartle, e è fallito. C'è un errore di sintassi nell'installer. Maledizione. Ma che... ma dove sta questo? Io non ce l'ho sto comando. Devo installare qualcosa. No, lui, lui lo trova. Ok, allora installiamo Pai Tartle. Vediamo se c'è. Non c'è. No, no, c'è Tartle, ma Tartle fallisce. E com'è lo scarico alla vecchia maniera? Eh, non da terminare, anche se la vi conoscete. Cioè? Che... 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 da dove lo... da dove lo installi? L'installer... Pai Tartle. Pai Tartle. Tutto a stancato. Pai Tartle. Ma dove lo trovo? Io ho fatto Pai Tartle e Tartle. No, io sto cercando in rete. How to install Tartle with... Ah, vabbè, io lo posso fare... Per esempio, io lo posso installare... Aspetta, perché... Leonardo, Leo, stai zitto perché... Atom va benissimo, qualsiasi cosa usino va benissimo. Ma c'è un modo per installare i libri... E... E' direttamente Atom... 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 Ok, io ce l'ho già installato... Quindi capace che io ce l'ho già... No, questo è Python 2... Python 3... Sì, ce l'ho già... Ok, va bene... Allora, ce l'ho già sia in Python 2 che in Python 3... Ok, va bene... Ok, va bene... Ce l'ho già in tutte le salse... Basta saperlo... E... Atom come si scrivano i pacchetti... Scusa, condividi il tuo schermo con Atom... Così, così forse... Per esempio... Eccoci... Ehm... Veramente... Io sapevo che si potevano installare i pacchetti di Atom... Ma non... Cioè... Non c'è un installer di pacchetti Python... Scusa... Leonardo... Senza perdere tanto tempo... Ehm... Ce l'hai... C'hai... Ehm... Cosa c'hai tu? Windows? Cosa usi? No, no... Leonardo Saba... Leonardo Saba... Ok, allora... Poi prende un terminale... Lo so che su Windows... È una brutta cosa da fare... Però... È maleducato... Bravo... Ecco... Prende quello... Sì... Sì... Tienlo aperto... Adesso questo non lo chiude mai più... Allora... Qua... Se tu scrivi... Pip3 install turtle... Che succede? A me... Questo non funziona... Cioè... Cioè... Da un errore... Però... Forza a te... Funziona... Eh... Persino lo fa... No... Non lo fa... Lo fa... Success... Sì... Vabbè... Ecco... Vedi... Mi da... No... La parte sopra non l'ha fatto... Però... Scusami... Fai una cosa... Fai... Scrivi... Python 3... Perché... Mi sa che ce l'hai già installato pure te... Invio... No... Python 3... Che... 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 Che problema c'ha? Permission denied... Permission denied... In che senso? Non lo puoi eseguire? Aspetta... Questo lo fa... Aspetta... Aspetta... Questo lo fa... Però... Non sta facendo niente... Esatto... Non sta facendo nulla... Cioè... Scusa... Fai... 3 più 5... Fai invio... Cioè... È vivo... Python o è morto? Invio... No... È morto... Ok... Fai... Control D... Niente? No... Control C... Ma che è questo? Che comando è? Il comando fantasma... Che... Vabbè... Andiamo bene... Un comando... Non so cosa da dire... Eh... Control C... Normalmente... Control C... Interrompe tutti i processi... Control Z... Prova Control Z... Che è successo? Che è successo? Ah... No... Ha detto che non ci sente... Tasto orecchie... E... Control C... Non lo fa? Fai un paio di Control C... Tac Tac... No... Vabbè... Allora... Ci siamo giocati il terminale... Che sta a fa? No... No... Ma Control Z... Dovrebbe... Che dice? Close anyway... Close... Ah... Boom... Ah... Sì... Ma... Dico... Ma come sarebbe che apre da amministratore? Ma che c'è? Tu come fai da Atom a... Allora... Scusa... Scrivi Python 3? Adesso qua ci vedo meglio... Non ho parole... Scusa... Tu c'hai sudo qua... Scrivi sudo Python 3... No... Spazio Python 3... Vabbè... Addio... E... Come... Come si fa a aprirlo... Che... Che abbia la possibilità di eseguire qualcosa... Beh... Io... Voi vi rendete conto che avete... Delle macchine... Che non vi fanno fare... Quello che voi volete fare... Voi ancora non avete buttato... Dalla finestra? Ma non... Il problema non è terminale... Il problema è la macchina... Il sistema operativo... Cioè... A me non esiste... Io avrei già buttato... Dalla finestra... La macchina... Non mi sa far quello che devo fare... Passando per Python... Per certe cose... Non capisco... Perché sto chiamando... Ok... Da Atom... Tu puoi chiamare una console con Python? Cioè... Come faccio... Perché... Io non mi ricordo... Tu chiami Atom... Su Atom... Hai la possibilità di aprire... Una finestra... Non so... Ma ogni volta... Sì... Una finestra... Una console... Un terminale... Sostanzialmente... Sì... Sì... Mi farei qualcosa... Che apri la console... Eh... Ma da sopra... Non glielo puoi dire... Apri la console... View... Console... Io non ci vedo qua... Quindi... Par sicuramente... Aspetta... Me lo... Me lo prendo... Da me... Me lo prendo... Ma se c'è qualche modo... Che... Che vieni... Per favore... Sì... Se non ce l'hai già... PyCharm... Qualcosa... Che fa sta roba qua... Che sembra impossibile... Allora... Cioè... Per me... Se non funziona il terminale... Possiamo andare a casa tutti... Allora... View... View... Toggo... Paints... Perché il terminale... Tu lo devi installare... Su... Su Atom... Non è che lui ce l'ha... Quindi devi andare su... La... Sui pacchetti... E... Dove ti fa installare... I pacchetti... I dividiti... E riuscire a cercare... In determinati... Di Python... Prochè... Le type... E... Senta... Non lo sta... Eh... Se non c'è... Vi darei qualcosa... Che è parte... Delle istituzione... Di pacchetti... No? Eh... Non fatti... Non... Vediamo... Vedete... E... Ma... Quando uno fa... I pains... Le... 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 I singoli pain... No? io voglio fare pain split down ecco questo lo splitta giù e dopodiché però io questo secondo non voglio che sia un testo voglio che sia una console open in dev mode open in dev mode questo è proprio un'altra cosa io ho il package se non posso aprire niente apri quelli all'ultima ok è tutto a destra adesso ce l'hai ecco ora vai e corri giù ci sta proprio qualcosa che ti indica lì lo trovi lì lo trovi python debugger python console esatto aspetta sto guardando si chiama python technical c'è questo io ho scaricato tutto python c'è un sì ma ecco ecco leo adesso guardiamo qual è qual è però andrà bene questo sicuramente quando vorrete stavolta su parte che trova perché quello che dì è fissato è fissato è fissato install package open install ecco 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 ok qui c'è un pen che è il terminale python scusa avrò varianti aria, chiudi, scusa, aiuti aria, 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 mi ricordo che non ho fatto un'altra cosa, e un'altra cosa, vediamo un po', vai. Dai, Leo, vai tu. Che ne so io, che c'hai, quanti schermi c'hai? Uno, fai il primo che ti capita, basta che lo condividi. Ecco, se potessi fare ctrl più, ctrl più, ctrl più, ctrl più, che ingrandiamo un po' la visibilità della faccenda, almeno tre volte, almeno tre volte, se non quattro. No, fai c'arma, non ingrandisce, si rifiuta. C'è tutto, se fosse, c'è tutto, ma gli disgraziati. C'è tutto, ma gli disgraziati. Non so se si riguarda, ma tutto quello sul mio computer, l'altro l'avevamo fatto. C'è tutto, ma gli disgraziati. No, la, non ci stanno i font lì, proprio in quella finestra là. No, non ci vede, è di terremoto, è di terremoto, è di terremoto, è di terremoto, sono di terremoto, è di terremoto, è di terremoto, è di terremoto. io non vedo niente sempre la stessa a questa più grande sì effettivamente sotto per caso sotto la perfetto allora scusa puoi amico mio puoi scrivere python 3 in quella console vediamo se alla alla puoi scrivere import turtle a posto ce l'hai fai quit no no ma ho installato un bottazzo di librerie termine ok si è svegliato pure il mio google bravo cominciamo a parlare in maniera allora allora leo prima cosa no fermo per sabono fermo allora prima cosa scrivi mi fammi un asse cartesiano in turtle e una linea orizzontale questo è quello che mi serve dentro quest'asse cartesiano questo lo chiamiamo test turtle va bene va bene allora adesso no sostanzialmente no cominciamo da una cosa facciamo una riga orizzontale di un centimetro due centimetri 20 pixel quello che è no anche senza per il momento senza piano cartesiano bravo no diretti minuscolo se non nulla via come posso in che cosa lo devo esprimere in centimetri in leghe navali ma di che per esempio 10 10 centimetri ma con l'andesco c'è uno spazio da sinistra verso destra vabbè come te pare allora qua sta andando due passi avanti e due indietro poi come come la scrivi la riga che ne so io non lo sai tu io non so usare allora facciamo per non farla sembrare brutta non farla sembrare brutta fammela che me la scrivi poi dopo vediamo brutta non vediamo la finestra che vuol dire veloce alla fa e sparisce non puoi scusa se tu fai se tu se tu non fai ai turtle quello non rimane appeso no se ne va ma che scemo scusa vabbè puoi mettere uno slip qua perché lui sostanzialmente lancia un thread e poi esce allora metti uno slip dai no no slip almeno 30 secondi fai vedere per 30 secondi ma che no cos'è slip non mi sa che è sys slip o qualcosa devi fare import sys import sys no sys ys il sistema credo è credo che lo slip sia di sys punto sys punto slip io rossamente su python aggiungevo semplicemente input quindi aspettava stava bloccato è rozzo lo so l'ho detto no 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 ma va benissimo se è stupido lui tocca essere rozzinoi non c'è sta lo slip oh signore dove sta lo slip allora mettici input come faceva come fa come fa time slip method ah è time time punto slip ma che e devi fare import time forse ma perché non dico l'ora che è successo ok adesso però io non capisco una cosa come è fatta questa riga cioè tu devi andare a in fondo e tornare indietro cioè il forward perché fa il forward no però vedi che questa è grande la messa metà sit ok adesso no fermo se ne vuoi fare ecco questo va fuori bordo e la scusami è la grandezza delle madonna mi sembra una porcheria sta roba siete sicuri che non volete usare peak che è la cosa più semplice di questo mondo e che prendo un testo dunque scusa il punto è per esempio se io voglio fare ok allora adesso a partire da questo facciamo facciamo uno spazio cartesiano ok in cui eh disponiamo tutte le note come se fossero righe eh allora lo spazio lo facciamo lineare sia lineare sia nell'asse delle x che nell'asse delle y però disponiamo le note secondo la scala temperata esercizio banale per capire come funziona sta roba quindi facciamo semplicemente un cartesiano allora cominciamo col fare un cartesiano home lui quando fai home torna 00 però 00 è il centro dello schermo è il centro del disegno non è per forza si può resettare la home mette per esempio in basso in basso a in basso a sinistra tipo ovviamente ovviamente si può fare il pen up eh di quanto muoversi e quando hai finito di muoversi cioè fai un comando per farlo alzare e andare in punto preciso si può anche fare forward beh ma quello può diventare la domanda è quello può diventare la nuova home io voglio che la home per comodità la home sia in basso a sinistra eh cioè partire da in basso a sinistra e faccio il mio piano cartesiano andando verso l'alto e verso destra si può fare con tu vabbè facciamolo dai facciamo questo piano cartesiano ma questo come l'hai fatto? l'hai fatto disegnando? si ah vabbè che cosa fa vedere che cosa fa vedere una piccola data che disegna quello che tu gli chiedi ecco perché vedete che ma quando la costruiva oh signore dio si muove questa data come se fosse che lascia il segno ecco come disegna quindi vede proprio il movimento di farlo ecco perché c'è questo back, forward, left e gradiente lui gli dice fai muovi di tot verso destra e lascia il segno e lascia il segno e questa è una penna sì questo l'ho capito però il punto è che vabbè devo capire come si fa a disegnare qua quindi voglio fare una roba molto semplice e voglio capire l'unità che cosa sono pixel sono che roba e ok se io voglio fare un un rettangolo che sia la cornice che mi stia i bordi de sto coso lo posso fa? no a manina a macchina sì ma non voglio cambiare il size del canvas voglio sapere quanto è grande ehm um ehm eư ehm ehm è la 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 400 pixel per 300 pixel ok e se uno gli da degli argomenti lo resetta ok io posso salvare in un file png o quello che è il suo disegno perché se non lo posso fare è meglio che lasciamo ok allora dai proviamo a fare questa allora io voglio fare un un piano cartesiano che ha l'asse cioè 400 per 300 quindi 300 sono le y e 400 sono le x ok allora se io voglio andare verso il basso lo 00 dove sta? in alto a sinistra al centro t punto scusa scrivi import arti piccolo così non ti incasini si sta incasinando in maniera vabbè d'accordo come si fa allora go to 00 però questo dove sta sto 00 in alto a sinistra e al centro ok perfetto allora fai a go to fai un go to che va a meno 200 facciamo meno 180 no scusami questo è dunque meno 180 ok meno 140 ok e poi fai turtle punto forward di e perché va qua ma io non voglio disegnare io voglio allora devi fare pen up e andare là ma deve andare più giù mi deve andare in basso a sinistra scusa meno 180 meno 180 se quello è 00 allora il canvas size è 800 per 600 non scusate non è che voglio dire ma io le cose le capisco in un certo modo manco manco va in fondo meno 400 dovrebbe essere fuori abbondantemente vabbè non importa queste cose sono le qua puoi andare anche a meno 400 meno 400 vedi questo col cazzo del green size se il skin size è 400 per 300 no quello magari sarà fuori boh vabbè ma perché è 800 per 300 è appunto è 400 per 300 però no se va a meno 500 vuol dire che non è questo 800 questo è solo il quadrante negativo perché lui lo 0,0 sta al centro ecco è sparito va bene no 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 intorno a 550 meno 550 meno 550 meno 500 diciamo quello che è non importa non me ne importa niente facciamolo così adesso fai un forward di a questo punto 1000 no forse quelli non sono unità di misura come li pensiamo noi forward di 1000 adesso questo è 1000 sulla parte orizzontale no 1000 no 100 e poi come si fa a farlo ok quindi tu torni indietro di 1000 ok adesso sì però adesso bisognerebbe fare una linea verticale perché app siamo scesi un po' troppo vero no il pen down lo devi fare dopo il go to ok ok ma la tartaruchina è proprio obbligatoria ma forse ti conviene fare invece di fare il forward ti conviene fare un pen up fare un go to cioè fai il forward e disegna la riga poi per tornare indietro fai un pen up e poi fai non so cos'è la cosa per fare la riga verticale ma sai che cosa potrebbe essere più comodo? ma sì certo vabbè adesso certo dopo faremo tutto faremo la classe piano cartesiano faremo tutto quello che dobbiamo fare però intanto dobbiamo capire come funziona io non capisco come funziona e poi non capisco perché non sta in piedi perché mi crea una finestra perché questo il problema grosso è che usa usa tk che è una libreria vecchissima che c'è un sacco di problemi infatti fa abbastanza anche un co a base allora usiamo quel concetto no 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 ma magari tartaruchina funziona anche con un'altra libreria io questo non lo so adesso non lo studierò ma non c'è forse c'è una libreria anche un po' allora python 3 graphic drawing vediamo un po' python graphic programming language graphics.py vediamo un attimo sempre un sacco di pubblicità sempre un sacco di pubblicità vabbè questa sembra una roba un po' troppo semplice ok poi appunto questo c'è i cerchi un sacco di pubblicità no questo mi sembra una roba un po' casereccia 3 interesting graphic libraries matplotlib è quella che fa i plot e va bene però fare le partiture con matplotlib mi pare un po' un po' poco ah c'è roba che fa la face recognition se può fa veramente molto poco matplotlib plplot v python 3d graphic module addirittura pi chart ok interactive visualization pi gal dynamic svg image ai tesseratto cr ah pillo dunque pillo l'ho già sentito no ma per image processing no ma per image processing niente questa è tutta porcheria madonna mmm tools draw panda using turtle graphics eccolo qua draw sfg non è jupiter notebook perchè è il dad di dio questo è pillo draw circle rectangle line eccetera with python e pillo allora allora mmm mmm no due 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 tenni sì due 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 ok ce l'hai PIL? PIL maiuscolo se no PIL tutto maiuscolo fai un altro file facciamo prima a fare la prova oppure fai partire la console e fai import PIL però non so se devi installare PIL oppure perché questo si chiama PIL ok allora prendi un altro file adesso vai nella pagina aspetta pillow test si ma fai questo guarda vai a questa pagina qua questa qua questa qua ok se tu vai in quella pagina si fai quello cosa c'è? dove? vabbè l'ha buttato fuori forse se fai alt tab c'è una finestra dietro no c'è una finestra dietro dietro questa cosa ha fatto? cosa ha fatto? ha pigliato è uscito exit code questo fa il canvas e poi sul canvas vabbè scusa vabbè scusa stiamo sul pezzo adesso vediamo questa cosa qua here create a solid image with image new the moon side are specified in the parameters dovrebbe essere creata nella cartella dunque nella cartella ma non gli abbiamo detto di salvarla questa la dovrebbe far vedere prova a rieseguirlo prova a rieseguire che lui prende e esce lui è uscito finito fai uno slip mettici uno slip dai fai import time poi fai da c'è il tempo che dice ok eh però no scusami adesso hai cancellato questo non può funzionare perché ti manca draw ok che dice non vedo niente data dst install no certo devi devi levare quella parte la roba tua prova a fare un png non un jpeg dd salvare un png eh test ok no non tutto il patto scrivi vabbè non sai dove te lo mette il backslash così funzioneranno male vabbè dai ma lo vedi che sta interpretando il backslash cioè il backslash non può funzionare qua perché è un escape character il backslash e quindi o metti tutti ecco cosa dice perché sono le ide che sono stesse se c'esse tutti i terminali con sistemi normali sarebbe molto più semplice poi non si capisce mai questi in che unità di misura sono maledetti da 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 Grazie. .png Non vedo quello che scrive. Ragazzi, posso far vedere una roba che è infinitamente più semplice di tutta questa baraccia? Eh? Perché c'è un limite a tutto, no? Io ho pazienza, ma non tantissimo. Allora, attenzione. Aspettate che mi preparo. 12, 20. Ok. Allora. Posso prendere io lo schermo? Ah, sì, 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 sì. Come vuole. Allora. Now. Questo qual è? 12, 20. Questo. Si prenda un terminale. Ok. Allora, esiste un linguaggio... Allora, facciamo un piccola premessa e presentazione. Nel 1972 usavano i computer per fare articoli scientifici con grafici vari ed eventuali. Quindi esiste un linguaggio di programmazione del 1972 che si chiama PIC e che fa parte, ve lo scrivo, che fa parte di una suite, diciamo, di typesetting, di, come si chiama, di cose tipografiche. Allora, il packer si chiama PIC e fa parte della suite TROF. Adesso ne esiste una versione libera, GNU TROF, che si chiama GROF. Ok, queste sono le cose. Allora, per avere PIC dovete installarvi GROF. La cosa buona è che GROF generalmente è installato, per esempio, nei Mac che hanno un sistema Unix, cioè GROF è installato di default nei sistemi Unix perché è il sistema che serve per fare le pagine di Help. Quindi c'è già. Ok, allora, questo funziona così. funziona con un testo ASCII, proprio come C-Sound. Era per questo che dicevo. Soltanto che ovviamente bisogna scrivere qualcosa di diverso. Allora, cominciamo con una cosa semplice. Facciamo un file che si chiama... Ci vedete bene? Lo vedete bene? O devo ingrandire i caratteri? No, se lo vedo io, vedo qui. Ok, allora, siccome questa cosa qua generalmente fa parte di un testo, cioè che è un testo scritto e quindi queste cose sono fatte per inserire disegni all'interno di testi, però noi ce ne possiamo anche fregare, i disegni sono circondati da questi due comandi PS, cioè pick start e pick end, ok? Quindi, e i comandi di Giroff sono tutti preceduti da un testo, sono di solito di due lettere, perché nel 72 gli pesava di scrivere tante lettere, e va bene, e questa cosa serve per dire il linguaggio pick, che è proprio un linguaggio, funziona all'interno di questi due, viene fatto partire all'interno di questi due. Quindi qua dentro c'è tutto il codice pick, si vede da qua, che per esempio è una cosa molto vecchia e vedusta, perché oggi le cose non si farebbero bene. Comunque, all'interno di questo uno fa line, che ne so, scrive line from 0,0 to 10,0 e dove sono x e y queste cose qua, e questo fa questa cosa, fa, allora, uno fa partire pick, pick è un preprocessore di Giroff, quindi per esempio pick analizza questa cosa e crea questo codice, che codice? Giroff, non si capisce niente, non ce ne frega niente, lo diamo in passo a Giroff con un pipe, e lo facciamo uscire per esempio in PDF, lui lo genera in Postscript, e dopo da Postscript uno se lo può portare dove gli pare, in realtà in PDF uno così ha, diciamo, un disegno, come si dice, vettoriale, che quindi è meglio, scala meglio rispetto ai disegni raster, però, poi se ha bisogno di raster, da vettoriale a raster, ci sono un sacco di utili che li trasformano, ci possiamo mettere un set di macro, no, anzi non ce ne mettiamo, mettiamo niente, e quindi creiamo un file PDF di questo, lo facciamo Leonardo Saba, lo mettiamo proprio come mettevamo il progetto di Python, ok, questa cosa qua fa, adesso ve la faccio vedere, crea questo coso, che è questo, vediamo se l'ha fatto, ok, vabbè, lui crea una pagina PDF, cambio finestra, come posso fare, posso fare che invece vi, faccio il whole, stop presenting, rimetto my entire screen, vediamo bene, ok, allora, l'entire screen, questo, questo, vedete, vedete il file PDF, vedete il file PDF, adesso questa l'ho fatta a 10 e sono 10 inch, quindi sono 10 pollici, che sono quindi 20 e passa centimetri, per cui, se io lo voglio fare in centimetri, siccome le unità, questi sono americani, sono del 72, non sapevano che esistessero i centimetri, allora, dopo gli hanno detto, guarda che esistono i centimetri, allora, dice, va bene, allora facciamo un'unità di scaling, che ci permette di riscalare tutto il disegno, e ve lo riscala, e basta scrivere all'inizio scale 2.54, perché un pollice sono 2,54 centimetri, e lui riscala il tutto, capisco che è brutto, è molto sovietico, io capisco, capisco tutto, ecco, questi sono 10 centimetri secchi, sono 10 centimetri, va bene? Ok. Naturalmente, nulla ci vieta di fare una cosa di questo tipo, di fare, ok, adesso, adesso per esempio voglio fare che, questa l'ho fatta da 0 a 10, adesso voglio andare 10 centimetri sotto, voglio andare 10 centimetri, 20 centimetri sotto, vado 20 centimetri sotto, e vediamo se lo fa, no, quando dico semplice, dico una roba di questo tipo, ecco, il problema qual è? Che sono andato a 20 centimetri sotto, con la parte sinistra della retta, e non a 20 centimetri sotto, con la parte destra, quindi mi ha fatto giustamente, l'avete vista la diagonale? No, scusate. Sì, sì. Ok, devo andare a meno 20, ovviamente anche qua. Va bene? Ok. E avanti così, adesso dove sta, sta, no, non sta a meno 20, perché non è andato a meno 20, perché questo resetta tutto? Aspetta un attimo. Ok, comunque non è, vabbè, questa è una cosa, doveva essere andato, ma non ci è andato. Allora, in realtà qua, quello che si fa è un altro tipo di cose. Per esempio, vogliamo fare il nostro piano cartesiano. Allora, per fare il nostro piano cartesiano, noi costruiamo una frame, diciamo, facciamo un rettangolo, che è un box con una width, allora, diciamo, 10 centimetri, e una height, l'altezza, l'altezza, la facciamo, appunto, di 20 centimetri, ok? E, 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 cos'altro ci serve? Non ci serve più niente. Allora, questo lo commentiamo un attimo, perché vi voglio far vedere una cosa. Allora, facciamo il box, e naturalmente ci aspettiamo di vedere un box. che effettivamente abbiamo, ok? Questo è il nostro box. Naturalmente possiamo cambiare le dimensioni, per fare quello che ci pare adesso. Quello che volevo fare è un'altra cosa, volevo fare il piano cartesiano. Il piano cartesiano, il piano cartesiano lo facciamo così, il box lo rendiamo invisibile. Questo adesso non si vedrà, però, io posso dire, benissimo, allora, fammi la linea che va dal sud, da frame sud-west, fino a frame sud-east, ok? South-east. E quindi, questo mi traccerà la riga che sta al bordo inferiore del box. avanti Savoia, dove sta? Sta qua. Eccola, l'ho scrollata. Ok, adesso, naturalmente posso fare, posso fare che, allora, la linea verticale come la faccio? Io faccio percorrere la frame da sud-west, no? a sud- a nord-west. Cioè, si usano le coordinate. Quindi, io posso anche non vederlo, il frame, ma lui mi fa quello che serve. Ora, questa cosa non è perfetta, perché vedete, non è, sì, diciamo che possiamo dire che è abbastanza buona, buona, ma non è la perfezione, perché volevo farli che sono incrociati, come tutti i piani cartesiani. Allora, possiamo dire, sì, va bene, questa cosa qua è a south-west più qualcosa per più 0x, ma qualche cosina, 0.5, mezzo centimetro sopra, e anche qua lo mettiamo lo stesso, cioè, lo sposto di un pochetto, no? Ok. E poi, qua che cosa faccio? Faccio lo stesso, però, stavolta sposto la x, diciamo 0.5 e 0 e lo finisco a 0.5 e 0. E' tutto chiaro? Cioè, questo, per me è praticamente super intuitiva questa cosa. Vi è chiaro? Ditemi sì, no, forse. Sì, sì, come sì. Ok. Boh, allora, è fino a qua tutto bene. Il bello è che questo è un testo, è un testo, come dire, ASCII, tanto quanto una partitura di C-Sound, eccetera, eccetera, aspetta, non l'abbiamo visto, non l'abbiamo visto, possiamo lasciarla in piedi questa cosa? Forse, no, non ce l'ho, vince, test, PDF, la lasciamo in piedi, è venuto storto? non vedi, è venuto storto perché? Perché abbiamo sbagliato qualcosa, perché ho sbagliato qualcosa, perché? Ah beh, perché l'ho fatto appena canino e quindi, ok, questo è così, adesso verrà dritto. Ok, eccolo qua. Bene, adesso abbiamo detto che vogliamo costruire un programma di Python che, per esempio, vogliamo distribuire questa, questa, la parte verticale la vogliamo distribuire in, la vogliamo distribuire in in Hertz, no? Per cui, questa, la, l'altezza di questa, di questa, di questa asse, lo vogliamo suddividere in Hertz. Allora, il punto è che l'altezza di questo, allora, se noi adesso qua diamo dei nomi a queste, quindi, questo per esempio lo potremmo chiamare asse X e questo lo potremmo chiamare asse Y, ok? Noi adesso possiamo usare, per esempio, noi possiamo stampare quanto è alto l'asse Y, print, asse Y, e questo ce lo darà in centimetri, spero, eh, asse Y height, ok? Ah, e dice 0, molto bene, mi fa piacere, eh, questo non ce lo, non ce l'aspettavamo, ma forse sono, eh, no, forse è LN, perché è una riga, no, c'è uno sbaglio, forse, quindi è L, solo L, aspetta se sta, se sta incartando, perché vi sto facendo fare cose che non deve fare, non mi ricordo, forse è solo L, basta fare L, ok, eh, qui mi sta dando una, una, due, eh, due coordinate, eh, queste, in qualche modo vanno un po' interpretate, ma, eh, vabbè, non è veramente importante, perché quello che voglio fare qua, è, di, diciamo, appunto, avevamo detto, disporre, delle, eh, delle, come delle righe, eh, per esempio, distribuite, secondo la scala, temperata, allora, intanto qua, si possono mettere, come abbiamo messo la variabile, che possiamo mettere, altre, altre, variabili, per esempio, questo 0,5, che abbiamo messo, lo possiamo scrivere qua, e, qua, usiamo, no, l'offset, come, allora, adesso, quello che dobbiamo fare, è, disporre, eh, disporre, le note, no, con, con, con righe parallele all'asse X, e, usando questa, variabile, offset, ok, allora, adesso, scriviamo, un programma di python, che ci fa, questa roba qua, e, cosa faccio, col programma di python? col programma di python, scrivo il programma di pic, col programma, col programma di, e, il programma di pic, disegna, chiaro a tutti? allora, scriviamo testpeak.py, non c'è bisogno di importare niente, penso, perlomeno, e, facciamo, una cosa, per il momento, proprio brutale, non facciamo nemmeno una classe, oh, sì, facciamo una classe, drawing, e, la classe drawing, sostanzialmente, che cosa vuole, come, ci possiamo mettere la dimensione degli assi, qualcosa del genere, ok, allora, la dimensione degli assi, e, cos'altro deve fare questo? deve fare, ok, ci mettiamo la dimensione degli assi, width, height, e questo, ce li salviamo qua, width, e width, e, self, height, e height, ok, adesso, eh, allora, adesso qua, mh, devo farmi, un header, che mi, sostanzialmente, mi scrive, tutta questa roba, eh, header, e poi mi faccio un trailer, che mi scrive, il trailer è facile, perché mi deve scrivere, print, print, aperta parentesi, punto, pie, così, questo smette, e, il header, mi deve scrivere, tutta questa prima, queste prime tre righe, eh, no, cinque, sei righe, eh, allora, semplicemente, facciamo così, facciamo una roba, proprio, molto, rozza, baxlashen, 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 adesso la faccio veramente rosa, baxlashen, e, baxlashen, questo fa, il baxlashen sono i ritorni a capo, e, qua non c'è bisogno alla fine, e basta, questo fa l'header, ok, adesso facciamo il nostro, processo, che sarà il solito, la solito metodo, run, non so, draw, ok, e questo, che cosa fa? Allora, questo, intanto chiama l'header, self.header, qua c'è due punti, intanto chiama l'header, così fa l'header, dopodiché, che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare, stampare delle righe, allora, qua, dobbiamo farci un po' di conti, perché, per esempio, la, la, hate, noi dobbiamo fare, che la dividiamo, cioè, noi praticamente, vogliamo avercela in hertz, e mettiamo conto, che stampiamo, i primi, 3.000 hertz, di una, allora, facciamo che, qua ci diamo una nota, una, una fondamentale, da stampare, no? F0, e, uguale, F0, facciamo disegnare, tutte le componenti, no, no, non le componenti armoniche, facciamo, tutte le note, a partire, da una certa nota, eh, per esempio, do centrale, o quello, o quello sotto, e, e, e quindi, qua, noi dobbiamo fare, una conversione, tra hertz, e, 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 la height, no, per esempio, se la nostra, eh, la, la nostra, diciamo, tu, la, 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 max frec, la frequenza massima, la mettiamo, qua, queste potremmo dire, eh, F0 è, per esempio, il dot centrale, 261, hertz, punto 6, e, la max frequency, la mettiamo, a, 6.000 hertz, ok, così ci facciamo fare, le righe, eh, delle note temperate, fino, a 6.000 hertz, no, facciamo di meno, facciamo 3.000, se non ce ne stanno troppe, non vediamo niente, ok, perché 3.000 è, è quasi alla fine, del pianoforte, diciamo, come note, ok, allora, adesso, eh, qui dobbiamo fare, che, eh, dobbiamo suddividere, il nostro spazio verticale, eh, da 0 a max frec, deve essere, questo spazio verticale, e, eh, eh, e, allora, ah, ecco, questo, questa è una cosa che potremmo fare, dato che ci abbiamo questi dati qua, questi dati qua, li mettiamo qua, per 100, eh, facciamo, facciamo per 104.2f, e per 104.2f, questi li mettiamo qua, e poi, ci stampiamo anche, un offset, l'offset degli assi, che lo mettiamo qua, e lo mettiamo, già lo definiamo, dai, abbiamo un quarto d'ora, vediamo se, se ce la facciamo a farlo, ok, eh, adesso, quindi, qua, questo, lo facciamo, lo trasformiamo in, per 104.2f, anche questo, per 100.4.2f, tenete conto di quanti sono, allora, ce ne abbiamo da, 1, 2, 3, 4, e poi ci sarà, 5, 2f, e questo lo stesso, no, qui, no, qui, ok, adesso qua, dobbiamo metterci tutti, allora, qui se ci abbiamo, self, with, self, hate, così, questo riscala tutto, a seconda delle cose, poi, allora, poi ci abbiamo, self offset, 4 volte, self.offset, self, offset, virgola, self.offset, e self.offset, c'è un chiusa parentesi, e chiusa un'altra parentesi, questa è giusta? Sì, ok, ditemi se ci sono cose che non capite, ok, adesso abbiamo il problema, che, dobbiamo prendere, la, l'altezza, della retta, e, eh, levarci l'offset, e dividerla, per la, maxfrec, questo maxfrec, ce la dobbiamo salvare, self.offset, punto maxfrec, uguale maxfrec, ok, allora, eh, questa cosa qua, quindi, ce la dividiamo in, eh, cioè, noi dobbiamo sapere, un hertz, quanto vale, in incrementi di centimetri, quindi, il nostro, hertz increment, è uguale a, a che cosa? Alla, alla lunghezza che abbiamo, meno l'offset, perché, noi partiamo, diciamo, dal nostro 0x, è, 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 una certa, altezza, che è, a offset, appunto, quindi, è, self.height, meno, self.offset, no, noi partiamo un po' più su, quindi, dobbiamo, la nostra altezza è minore, e, eh, e lo dividiamo, per, maxfrec, è giusto? Così, convertiamo, questo è il riscalamento in hertz. Pronto? Yes, ok, allora, adesso, adesso, facciamo un for, in cui stampiamo, tutte le righe, eh, della scala, di una scala, per esempio, eh, la scala, mh, temperata, che corrispondono all'altezza in hertz, ok? Eh, quindi, partendo da, da, allora, eh, qua, lo start, è dato da self, f0, e, lo, eh, e, l'end, è dato da self, maxfrec, e, qua, facciamo il nostro, solito, while, eh, eh, no, facciamo che, questa non la chiamiamo start, la chiamiamo curvefrec, la, la frequenza corrente, while, curvefrec, andiamo avanti a stampare righe, ora, che stampiamo, stampiamo, eh, stampiamo, stampiamo righe così, print, 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 ok, adesso attenzione, line, from, 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 frame, siamo sempre dal frame, southwest, allora, adesso qua, l'asse delle x, è, eh, l'asse delle x, non lo, eh, dunque, io qua, lo devo, innalzare, eh, facciamo da 0 a, eh, ok, io qua, devo calcolare, scusatemi, devo, devo calcolare, la, la current frequency, quindi qua mi ci vuole un indice, della nota, eh, 0, e adesso, qua, calcolo, l'altezza della nota, eh, l'altezza della nota, è, curve frec, eh, è, legato a, self, punto, F0, elevato, no? eh, scusatemi, moltiplicato, eh, 2, elevato, alla, idx potenza, idx fratto 12, questa è la scala temperata, dico bene? Il primo semitono sarà un dodicesimo, due dodicesimi, tre dodicesimi, e così via, siamo d'accordo? e a partire dall'inizio, quando idx è 0, quella è 1, quindi self F0, uguale a F0, adesso dobbiamo fare, la, la curve frec, riscalata, secondo, a, hertz inc, no? e quindi, eh, cur frec pos, la posizione sulla cosa è quello, è cur frec moltiplicato, è, z inc, ok? Dopodiché, questa roba qua si troverà, sul, sulla pagina, si troverà a cur frec pos, più offset, perché, io parto da, da offset e quindi devo sempre tenerlo sott'occhio, e questa va da qui, fino alla, fino a frame, southeast, più, 0, virgola, cur frec pos, più offset, ok, basta, mi pare che basta, è finita qua, adesso se funziona tutto, abbiamo fatto, no, l'unica cosa che dobbiamo fare qua, è chiamare il trailer, allora, attenzione, adesso vediamo se funziona tutto, oppure, no, intanto, facciamo questo, e vediamo se funziona il testo python, test, pick, py, non gli piace, perché, 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 ah, beh, perché forse se chiudiamo le virgolette è meglio, se ogni tanto chiudessimo pure le virgolette, forse non faremmo un soldo di danno, e forse questo sarebbe meglio, farlo, c'avevo fretta a definire, questo sarebbe meglio metterlo, formattarlo, formattarlo per benino, 4.2f, e, 104.2f, questa ce la possiamo mettere, cur, frec, pos, più offset, la possiamo direttamente mettere qua, senza romperci troppo le scatole a scrivere tutto, e qui quindi ci serve di mettere, cfp, virgola cfp, chiuso e chiuso, ok, ricominciamo da capo, molto bene, non stampa assolutamente niente, ma perché, noi non abbiamo fatto niente, qua dobbiamo fare un disegno, drawing, in cui gli dobbiamo dare la width e la height, 10, gli diamo 10 e 20, e dopodiché facciamo d.draw, ok, molto bene, cosa ho scritto, printf, dove l'ho scritto, nella linea 11, ho scritto un printf, ma che succede, ok, ho sbagliato un'altra cosa, qui cosa, qui cosa, curve, ok, ah, ma gliela farò, è self.offset, dunque, offset, è self.offset, ok, beh, forse se mandiamo avanti l'indice, pure è meglio, vero? il dx, più uguale a 1, ok, allora, lui qua, fa tutto il disegno, lo finisce, sopra, qua c'è qualcosa che esce fuori, però diciamo che forse lo fa, allora, questo io lo posso sparare direttamente a peak, il quale lo converte in giro, e poi faccio tpdf, e sono a cavallo, vediamo se fa qualcosa di sensato, oppure no, sì, eccolo, e vedete che queste sono le note di una scala temperata, perché qua l'asse è lineare, no, e, e quindi si espandono man mano che fanno avanti, qui c'è un errore, perché lui sale oltre, oltre, va oltre i 3000 Hz, ok, incidentalmente qua, volendo, possiamo fargli stampare, che frequenza è, perché io, sopra, allora, sopra a questa riga, io ci posso aggiungere, una, una scritta, adesso qua la devo aggiungere in questo modo, e, e, qui, ce l'aggiungo, un 4.2f, le, 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 le virgolette le devo, fare l'escape, perché mi devono stare nella stringa finale, e poi gli dico di scrivermelo sopra, questo si impasticcerà un pochetto all'inizio, ma, dopo dovrebbe essere, curfrec, ok, ok, per esempio, basta, oh, cavolo, ho fatto uscire, ok, qua sotto sono impasticciate, impasticciate, per cui, bisognerebbe scrivere le più piccole, ma, insomma, ce so, ok, eh, per scrivere le più piccole, bisogna usare dei comandi, di, 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 Giroff, che sono un po' criptici, ma, eh, per esempio, qua, dargli il comando di una font size più piccola, quindi size, eh, me, allora, questo va fatto doppio, size, meno, 8, e poi, però, lo dobbiamo far tornare, ah, al size normale, che è questo, vediamo se lo fa, no, l'ho fatto riuscire un'altra volta, ma è stupido, non uscire più, vabbè, molto troppo piccole, vabbè, ecco, è strano che la, la prima riga non ce l'abbia, ma, insomma, ok, adesso, eh, naturalmente, questo è, ecco, sì, è un esercizio stupido, potremmo, naturalmente, mettere scritte qua, attaccate qua, perché voi, potreste avere un indice per ciascuna scritta, quindi, per ciascuna riga, quindi dire, alla sinistra della riga, cioè, si può fare veramente quello che volete, se volete, se volete, vi faccio vedere, una, una partitura grafica, eh, fatta a partire, proprio, di un pezzo, di un pezzo di Fausto Razzi, fatta a partire da, da un, eh, e tra l'altro, l'avevo scritto tutto in Python, ma, molti anni fa, eh, con il programma che genera, sia la parte, eh, sia la parte, sonora, cioè con C-Sound, sia la parte grafica con Peak, ok? Vi ho fatto vedere questo, perché, mi dà i nervi, che, eh, sì, ci sono delle cose bellissime, che fanno cose molto sofisticate, però, poi dopo, alla fine, per quello che dobbiamo fare noi, in realtà, noi dobbiamo, dobbiamo fare, eh, 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 dobbiamo fare, questo tipo di, di grafica, naturalmente, potete non mettere gli assi cartesiani, potete, possiamo misurare, si può, come, come ho fatto, le frequenze in verticale, possiamo mettere il tempo in orizzontale, quindi potete, per esempio, plottare ciascun evento, no? Adesso potremmo, mo' è tardi, però, potremmo plottare, eh, fare degli eventi casuali, e plottarli, come righe, no? Su, su, su più o meno, un asse più o meno cartesiano, un quadrante di asse cartesiano, capite? Allora, questo è uno strumento vecchio come il cuco, però, trovo, che per esempio, per quel, naturalmente, altre cose che potete fare, è, ingrandire lo spessore delle righe, metterci le frecce, ci sono un sacco di cose, se andate a cercarvi in rete la documentazione di PIC, trovate un bel, oppure, ve la, ve la metto adesso su, su Slack, eh, è sempre una, una spiegazione molto vecchia, dunque, noi siamo al secondo anno, vero? Eh, 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 adesso vediamo se lo trovo, al volo, e, ve lo incollo, cioè, ve lo, ve lo uploado su, su, su Slack, eh, sì, questo dovrebbe essere PIC, vabbè, intanto, torniamo qua, e stacchiamo la, la registrazione, eh, stop.